Siamo con il prefetto Cinzia Maria Turraco. Oggi a Grosseto si presenta un protocollo che funge da anello di collegamento interforze proprio per evitare che il fenomeno dell'abusismo commerciale assuma dei connotati differenti, vale a dire quello del reato. L'unico modo per farlo, lo si è detto, è quello di andare a sensibilizzare i cittadini attraverso quello che è proprio l'azione prevista dal protocollo. Sicuramente l'impegno della prefettura, delle forze dell'ordine è iniziato già all'inizio della stagione estiva con un volantino che era volto proprio a sensibilizzare i cittadini e mettendo sull'avviso dei possibili rischi che possono andare incontro dall'acquisto di merce contraffatta senza trascurare l'altro aspetto importante, quello sanzionatorio, per il cittadino che acquista il prodotto contraffatto. A questa campagna informativa, che comunque continuerà per tutta la stagione, si affianca questa direttiva del ministro di Spiagge Sicure che oggi abbiamo fatto con la sottoscrizione del protocollo con i due comuni di Castiglione della Pescaia e Follonica che va nel senso di un rafforzamento del contrasto all'abusivismo commerciale, con piani straordinari, proprio per combattere questo fenomeno. Verranno utilizzati questi strumenti, questi mezzi, questi fondi per cercare di sensibilizzare i cittadini, soprattutto chi è presente sulle spiagge non tanto naturalmente al contrasto all'abusivo ma al contrasto all'acquisto del prodotto abusivo. La campagna di sensibilizzazione è importantissima, bisogna rendere consapevoli i cittadini che acquistando e utilizzando prodotti e merce contraffatta produce danni anche alla salute, oltre allo Stato perché in termini di evasione fiscale, mancato introito a quello che è tutto il lavoro sommerso. Ecco che l'azione della direttiva va proprio nel dare questo maggiore forza alle polizie locali quindi un ruolo importante anche ai comuni per prevenire o ammonte il fenomeno più che sulla spiaggia. Con il sindaco Andrea Benini di Follonica che avrà questo contributo offerto dal Ministero dell'Interno per l'esigenza di sicurezza e non solo. Sì, alcuni colleghi l'hanno letta un po' in modo ideologico, dico la verità, probabilmente anche nell'intento del Ministero cioè forse un vago sullo sfondo intento ideologico. Credo che però certe opportunità vadano colte intanto con senso istituzionale e poi ripeto calandole nel contesto che viviamo. Il fronte d'impegno è ampio diciamo, non si tratta di mettere più vicini urbani per inseguire gli abusivi sulla spiaggia, non solo perché sono l'ultimo anello più debole di una catena molto complessa ma anche perché si creerebbero situazioni di grave pericolo per le persone che frequentano in gran numero le spiagge follonichesi. Poi si tratta di potenziare quell'azione fondamentale che è quella a monte, prima che la merce arrivi contraffatta o meno arrivi sulla spiaggia quindi provando ad implementare l'azione investigativa della nostra municipale dotandola di mezzi perché nel bando non abbiamo previsto l'acquisto di un mezzo proprio per il sequestro della merce poi però dotandosi di una pattuglia proprio per favorire questa azione anche oculare quindi di poter seguire effettivamente certe dinamiche, certi flussi che si muovono in città dalla stazione fino ad alcuni nascondigli che vengono individuati per stoccare la merce proprio per intercettarli prima di arrivare sulla spiaggia e poi comunque anche un potenziamento dell'azione sulla spiaggia ma come azione di prossimità e di prevenzione. Siamo con il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda oggi qui in Prefettura il proseguimento di un lavoro già avviato anni fa dalla Camera di Commercio alla Maremma del Tirreno vale a dire il contrasto nelle sue forme a quello che è l'abusivismo commerciale. Sì, oggi firmiamo questo progetto con il Comune di Castiglione Pesca, il Comune di Follonia naturalmente coordinato dalla Prefettura che sta facendo uno straordinario lavoro ormai da due anni insieme alla Camera di Commercio per combattere tutte quelle che sono le forme di abusivismo sia commerciale ma anche riguardo altri tipi di settori, altri tipi di imprese. La Camera di Commercio si concentra anche di più proprio sull'informazione che può dare al cittadino perché è importantissimo far conoscere ai cittadini anche quelli che sono i rischi naturalmente di acquistare merce contraffatta anche dal punto di vista della salute personale su alcuni prodotti ma anche quelle che sono le sanzioni che possono avere i cittadini che acquistano merce contraffatta perché le sanzioni sono sanzioni anche pesanti perché si parla da 100 a 7 mila euro di sanzione se si acquista merce contraffatta quindi bisogna cercare di difendere la legalità in tutti i suoi sensi.